E' quello che è quello che vuoi dire, perché non vi dire che non ci sia un sesso di un bene, anche adesso c'è un sesso di un bene, ma è... Getta acqua sul fuoco la sindaca di Battipaglia, Cencilia, francese, e tenta di placare gli animi dei tifosi della Battipagliese, che vogliono che le gare delle zebrette vengano disputate a Battipaglia, allo stadio Pastena, che al momento è inagibile. Ma la sindaca ha annunciato che inizieranno immediatamente i lavori di ristrutturazione dello stadio. E' chiaro che quando c'è un Consiglio Comunale infuocato con i cittadini, poi alla fine è difficile poterle lavorare, ma devo dire che poi alla fine siamo riusciti a parlare in marina serena, basta che non siamo prevenuti da nessuna delle parti, ma siamo qui per cercare di risolvere il problema. E' una cosa che abbiamo detto, ma stamattina c'è la ditta in questo momento su al terzo piano e prendono ufficialmente, prendono il cantiere e si fanno questi lavori. Che devo dire, la cosa che bisogna dire è che in questo stadio, da quando è stato costruito, nessuno mai ha messo mano, ha fatto una manutenzione davvero. Per cui noi abbiamo cercato, grazie al nostro bilancio, grazie al fatto che abbiamo messo a posto i conti, perché qua qualcuno se lo dimentica, abbiamo trovato questa somma di 750 mila euro per fare dei lavori importanti, che da una parte permettono l'agibilità dello stadio, ma non rientrano tutti questi lavori, per cui l'agibilità si può trovare sicuramente prima. Faremo dei lavori e poi, come ho detto forse anche nella vostra trasmissione, quello che abbiamo chiesto è una sorta di polisportiva, cioè il comune basso con questi bandi che furono fatti a segnazione, poi non te ne vai, poi devi pagare. Noi non dobbiamo guadagnare sulle società che vanno lì, però quello che chiediamo è che creassero loro una polisportiva, una specie di condominio che si gestiscono poi le spese, se le dividono ognuno per quello che consuma. Noi dobbiamo garantire uno stadio efficace e efficiente. Tornando invece a questo fenomeno, insomma chiamiamolo così, micro delinquenza, risse e quant'altro. Ieri c'è stato un incontro con i responsabili delle forze dell'ordine? Ieri mattina è stato fatto un tavolo, perché noi già siamo andati in prefettura e lì ci fu la richiesta da parte mia di avere la possibilità di una camionetta con l'esercito, come esiste a Salerno, ma sia da noi e anche a Eboli hanno lo stesso problema, ma tanti paesi limitrofi. E giustamente, non lo so, c'è stato negato la possibilità di avere l'esercito, perché l'esercito, dovete sapere che non può intervenire, in caso di risso di atti così, l'esercito non può intervenire, ma deve chiamare comunque le forze dell'ordine che intervencono. Però quello che dicevamo, come a Salerno la stessa cosa c'è il problema, ma come girano? Quando tu vedi una camionetta o vedi dei soldati che girano per la città, penso che sia da te terrente, quindi noi lo chiedevamo, visto le poche forze. Allora, alla fine abbiamo fatto un tavolo tra di noi, forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, per cercare, ma come sempre, perché questo rapporto di collaborazione c'è ormai da anni, perché loro hanno pochi numeri, poche unità, noi lo stesso cerchiamo un attimino di condividere, di decidere quali sono le aree più critiche, e fare in modo che se c'è una sola pattuglia che può girare, che gira, piazza Madonnina, ma questo lo fanno in verità. Il problema è che noi, un sindaco, molti li stanno attaccando per la sicurezza, il sindaco più che chiederlo al prefetto, più che fare un tavolo, un coordinamento con le forze che teniamo, non può fare. Ora, uno se lo deve prendere con una politica governativa, ma che non è questa solamente, risale agli anni passati, dove sono stati fatti tagli sulla sicurezza e sulla sanità, e lo dico 50.000 volte, non abbiamo medici, non abbiamo poliziotti, non abbiamo carabinieri, che facessero quindi, noi dovremmo andare a protestare a Roma per dire, fate i concorsi per assumere giovani carabinieri e giovani poliziotti, giovani della Guardia di Finanza.